È tutto molto reale, grazie. Ho lasciato la magia alle spalle. Immaginavo che ti saresti fatto vivo per parlare di quello che è successo a Westview. Ho commesso degli errori e... E se tu portassi America qui? Il Darkall mi ha mostrato solo la verità. Tutto quello che ho perso potrebbe essere mio di nuovo. Voglio lasciare questa realtà e andare in una dove posso stare con i miei figli. Quella che hai usato tu quando hai dato a Thanos la gemma del tempo. Tu infrangi le regole e diventi un eroe. Lo faccio io e divento un nemico. Non mi sembra giusto. Che cosa hai fatto? Smettetela! Sappi che saranno amati. Io ho aperto il Darkhold. Io devo richiuderlo. Nessuno sarà mai più tentato dal Darkhold.